Le persone più importanti nel mio percorso sportivo sono state sicuramente la mia famiglia che fa tanti sacrifici come me perché mi supporta sempre in queste lunghe trasferte e lunghe competizioni che mi tengono fuori di casa. E poi il mio primo allenatore della Nazionale Italiana, che è anche il mio allenatore della squadra di Keleb, Guido Pasciari, che mi ha scoperta e mi ha portato in questo mondo sportivo fantastico. Ho un portafortuna che porto sempre con me sia alle competizioni che durante i raduni sportivi, che è la mia prima maglietta della Nazionale, quella che mi è stata data il giorno in cui sono entrata a far parte di questa squadra. Quella la porto sempre con me. E poi un altro rito scaramantico e faccio sempre la croce prima di entrare in campo. Se dovessi vincere questi giochi paralimpici, didicherei sicuramente la mia vittoria ai miei figli, che sono la cosa più importante della mia vita. In un ipotetico talent mi esibirei sicuramente in competizioni non sportive, ma farei sicuramente, canterei, che non sono molto portata, però dicono che i napolitani sono intonati, quindi sicuramente proverei a cantare. La mia serie tv preferita è Lost. L'ho visto, penso, una ventina di volte, sempre ricomincio dalla prima serie, poi la finisco, e poi dopo qualche mese me la riguardo di nuovo, perché è proprio nelle mie corde come serie tv. Un brano per la mia playlist è sicuramente un brano dei Coldplay, che si intitola Viva la vita, che è emblematico per me, perché io sono un inno alla vita, per cui quella è sicuramente una colonna sonora che mi rappresenta molto.